Ciao a tutti ragazzi, allora sono molto lieto di annunciarvi, sentite come si, con l'apertura di pacchetto di paglia sono molto lieto di annunciarvi che dopo una diatriba con fast web durata qualche mesetto sono riuscito ad ottenere la sostituzione router perché quello che mi aveva andato col cambio di fibrotica era difettoso, sono riuscito a cambiare router, a farmi dare nuovo tramite sda, arriva con l'adesivo per riportare, una cosa molto molto rapida e logisticamente molto perfetta scusate l'accrescitivo quello superlativo assoluto, scusate ma veramente vi posso dire che questo router qua non perde più un colpo prima la rete si sconnetteva sempre, adesso non si sconnette più neanche dargli dei calci, neanche offenderla si sconnette invece prima il router che mi aveva andato purtroppo come succede aveva dei problemi, assegnava i dns dinamici tutti uguali, i p uguali per due dispositivi c'era lo stesso indirizzo ip solo che a parlare con le centraliniste ci cavi una scurreggia davanti a un ventilatore mi è arrivato un nuovo router, l'ho messo su, configurato come la prassi che ti aspettava un secondo devi mettere il tuo codice fiscale ed è questo qua appoggiato orizzontalmente è così ma io consiglio di appoggiarlo a un muro e diventa così appoggiato a un muro perché i chiodini sono uno qua e uno qua i chiodini, io l'ho appoggiato a un muro e diventa così con i cavi sotto molto 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 comodo iniziamo dunque da cosa iniziamo? da internet, dal mio monitor del sistema monitor del sistema eccolo sto scaricando una velocità di 130 kb al secondo perché c'è un muro attaccato chiaramente il muro è un po' limitato in fast bisogna usare torrent ma lo uso anche sono attaccato anche ogni tanto lo uso per certi file che non trovo su torrent poi ho internet attaccato ok e questa è la nuova pagina del router 192.161 162.1.254 da solito si sto prendendo la coca scusate sentite la lattina di coca eccoci qua pagina iniziale mainframe main page technicolor veramente valido la home questa media SS gateway non conto una fava bisogna vedere rete domestica allora nella mia rete domestica viene configurato il mio iphone killer che è attaccato la rete per esempio prima col vecchio router la connessione wireless dell'iphone veniva non rimaneva attaccata quindi se io non attaccavo non guardavo ogni tanto l'iphone lui mi spariva mi si disconnetteva da solo colpa del router io pensavo che era l'iphone difettoso ci sono altri dispositivi qua che puoi rinominare soprattutto perché non mi chiamo killer iphone li rinomini e gli puoi mettere telefono cellulare gli puoi mettere il dispositivo che è in specifico specificatamente telefono stampante in modo che una minchiata sarà ma sai la tua la tua iconcina che sai che è un iphone io ho una stampante collegata a wireless e ci ho messo stampante invece che è epson xp202 avete capito stesso procedimento vai dentro lo stampa e configura gli dice che è una stampante e lui ti dà così non so che cazzo è un pda andiamo a vedere cos'è un pda un pda cosa sarà vabbè non mi interessa via e poi c'è il mio computer che è attaccato a ethernet adesso sono attaccato a ethernet va da dio solo che c'è un problema lui mi dice 100 megabit però io viaggio alla velocità che mi dà la vlan fastweb 65 megabit non so perché non sarà un problema non so perché mi fa così e comunque io scarico una velocità se voglio di 8 megabit 8 megabit al secondo a 20 65 megabit perché un bit un byte sono 8 bit quindi se tu hai 65 megabit devi dividere per 8 e diventano 8 megabit e mezzo quasi 8 e 2 e un po' meno ok un'ultima cosa casera degli strumenti il firewall io ce l'ho disabilitato l'elemento intrusione sì ce l'ho abilitato e si ha erbata che ogni tanto ti conteggia non ha avuto un'intrusione di recente perfetto gestione utente canti buccati allora se voi avete io ve lo dico perché c'ho computer che è linux con il sistema con l'ambiente grafico gnome come mister robot è lui che ha copiato da me eh? io non c'ho xCFI o quell'altro xF ہو xF o KDE ecco KDE io ho ubuntu con gnome come mister robot e quindi di conseguenza posso permettermi di disabilitare l'universal plug and play per i giochini per aprire le porte posso permettermi di togliere il firewall perché tanto io non ho l'antivirus con linux consiglio per chi ha windows di attivare l'antivirus e di assegnare la dmz che è già assegnata è una specie di demilitarizzazione zona demilitarizzata sarebbe demilitarizzata zona in modo che tu hai come si dice sarebbe in una zona portofranco direttamente con la rete e fregatene di quello che ti entra perché tanto io avendo linux posso permettervi come se avessimo come se avesse un macintosh non serve antivirus un giorno speriamo che anche bilgate capirà quindi dns dinamico disattivato firewall per me è disattivato poi per voi no dmz attivata e dns disattivato per il resto a un'altra ultima cosa andiamo a vedere la potenza andiamo a testarla allora potenza facciamo un speed test con il mula attaccato ed è un po che sta andando ve lo dico computer acceso da ieri mattina oggi mi è arrivato a 65 megabit 66 ma ma adesso forse farà fatica ve lo dico comunque se voi avete speed test su un dispositivo portatile collegati in wireless iphone ipad 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 anche un computer portatile qualsiasi cosa collegata a router tramite wireless vi darà una potenza di 38 40 megabit collegati tramite lan tramite cavo ethernet io ce l'ho molto lungo quindi forse perdo un po arrivi a 65 megabit precisi 65 megabit 65 megabit lo sai che il primo maggio suoni dopo il primo bit guardiamo un attimo è lento come un cane adesso mio computer ve lo dico e poi sto anche registrando sto scazzeggiando ho il mula attaccato che non scarica una fava e va e vabbè 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 non va la vita non va la farà prima a fare cos'è togliamo riapriamo prendo il mulo forse un po di ram tiriamo la foto non chiudi senza salvare a manetta ecco perché non va la manetta il processore vabbè non lasciamo stare inutile per fare un'altra cosa cerchiamo il primo file che ci viene in mente la prima minchiata oh la ecco scarichiamo deadpool 2016 da 924 megabyte ok il sito più rapido è torlock ok sti cazzo di pop up questi neanche linux riesce a toglierli torrent apri beh se la cava bene adesso io chiudo internet perché veramente chiudendo internet speriamo che la ram vada giù e anche il processore beh scarichiamo guardiamo un altro ok apriamo un albo letter ce l'avevo già guardiamo se funziona no un altro file ma non ce ne ho non è che forse parte sì sì oh là è partito speriamo che mi soddisfi sessualmente guardate la penna 530 527 ma questo non è niente c'è arriva otto vi non posso garantire arriva otto megabyte e due come ridere speriamo che arrivi qualche nuovo qualche cazzo qualche cazzo ok oh ma questo non è niente questo non è niente deve arrivare a 2 mega 3 mega almeno 4 mega comunque spero di esservi stato abbastanza esplicativo sull'uso del router se avete dei problemi del router ragazzi cambiatelo e fatevi dare il tecnicolor come è arrivato a me perché veramente scusate non posso lasciarlo così devo trovare un file valido cazzo oh là riapriti oh là vedete come si è aperta anche veloce la finestra questo è linux ve lo dico non è mica ora guardiamo un attimo questo qua mettiamo in pausa dead handball che lo è caricato ok già è partito deadpool guardate i nodi come san su guardate i nodi a posto senza vedere senza occhi via partiamo 734 911 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 e vai su cristo ma no posso ripristinare di base ma no ma neanche spero anche tornare su 1.6 dai dai 2.4 bisogna vedere un attimo beh in 8.9 2.5 2.5 comunque già così te lo scarica in 7 minuti un file di 969 megabyte e vi giuro che anche poco deve arrivare un pochino più in alto 3.5 3.9 4.3 finalmente se non è unito qualcuno di valido 4.8 5.1 e mezzo e poi di 6 mega poi vi lascio 6.6 6.4 avete visto ragana in 2 minuti 43 secondi in 2 minuti 43 secondi Deadpool viene scaricato a 6 mega 31 è arrivato buono guardate è in in attivo un minuto e 51 finite in 2 minuti quindi in 4 minuti è scaricato un file 5 mega e 20 4 mega e 58 avete visto raga è anche lento arriva 8 mega e 2 chiaramente è arrivato a 6 e 6 è arrivato cosa cazzo è arrivato 6 e 6 qua è arrivato a 6 e 6 5.7 da che va su adesso bisogna vedere i nodi a cui si è attaccati per esempio da un nodo scarichiamo un mega 7 ok perfetto comunque se avete dei problemi con la rete e vedete che vi viene il pallino rosso 7 mega 3 7 mega 7 avete visto e vi viene il pallino rosso e due palloni così sotto rossi altrettanto mente significa che non è colpa vostra che non sapete non avete configurato bene è il router che non va se vi viene fuori la pallina rossa controllare sempre che tutte le palline siano in movimento cioè per esempio io adesso sto usando solo Ethernet e di conseguenza la rete e devo mandare la rete è Ethernet due spie lì la rete deve sempre andare una deve sempre andare se per esempio sono una attaccata in wireless deve andare anche la spie della wireless insieme a Ethernet e tutto il resto poi c'è un broadband che non so che cazzo adesso vedremo un attimo e forse per non lo so non lo so proprio ve lo giuro comunque in 31 secondi ho scaricato in due minuti ho scaricato Deadpool 6 mega 31 7 mega 8 avete visto? non lo raccontavo balle 7 mega 5 6 avete visto? adesso vi faccio 10 secondi 9 8 guardate eeeh 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 ecco di gomma eeeh bastardo che sta vivo eeeh eeeh di muerte demount 3 2 1 ma come 99,9 oh ma se c'è passato ma che cazzo fa deve ahhh ragazzi l'ho scaricato solo per esempio perché l'avevo già scaricato questo qua solo per farvi dire come è valido il router fastweb anche solamente con 65 megabit effettivi scusate sono un po' schizzato tac oooook io vi lascio spero vi essi stato molto spiegativo in tutto ciò eeeh devo rinviare il computer perché saranno una stupidata però io faccio anche pubblicità faccio una marchetta Linux acceso da un giorno e mezzo computer memoria RAM che sto consumando 20% 812 mega e e va da due giorni ho acceso di tutto ho fatto di tutto sto facendo un video ciao ragazzi sto facendo un video già usando questo programma qua che sfrutta un sacco il computer se avesse Windows avreste già dovuto riavviare ciao a tutti ragazzi e alla prossima